Allora, prima che si continui sul caso Luise, io voglio specificare una cosa a nome di tutta l'Aggiunta, e voglio ricordare che l'Aggiunta ha voluto richiamare la verifica dei principi espressi nel foro decisivo fondamento del pubblico impiego, approvato già da tempo. La posizione del signor Solise, infatti già da tempo vedeva dubioso e incerto e rispetto di dare codice etico, per il suo dubice voto di attento stampa del comune e direttore responsabile, nonché giornalista del settimanale, casò di attualità. Quindi ogni procedimento è stato assunto anche e soprattutto per la terra dello stesso signor Solise, a fin di dotare dubbio la stessa amministrazione, da dire strumentale e direttore. Ciò non dimentico che a limito questo punto, ogni successiva ripresione potrà consentire la funzione di ogni procedente. Questo lo faccio proprio come comunità, a fin di... Si, apriva di circolo quasi, che si è giovane in mente e non è il quale 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 è il quale, Questa è la seconda, è la seconda, è la seconda. E' la seconda, è la seconda, è la seconda. E' la seconda.